Rosanna e Alvina, il caos sulla l'isola per una fetta di pizza. Il clima sull'isola dei famosi ha visto una fresca alba nel ventiquattresimo giorno, con i naufraghi che si sono mossi con spirito d'iniziativa. Samuel ed Edoardo hanno dato il via a una nuova sessione di pesca, sperando di aggiungere un succulento barracuda alla loro lista di catture. Nonostante gli sforzi, però, il mare non ha voluto collaborare. Nel frattempo, il campo è vivo di attività, Greta si impegna nella divisione del cocco, mentre Stoppa e Aras optano per una passeggiata lungo la spiaggia. Il loro cammino li porta a due grandi tronchi che diventano delle improvvisate panchine, regalando loro un momento di relax davanti al tramonto mozzafiato sul mare. Mentre Samuel e Matilde partono per una caccia ai frutti di mare, Alvina intrattiene il campo con le sue lezioni di ballo, aggiungendo una nota di leggerezza alla vita sull'isola. La vera festa, però, inizia quando Arthur riesce finalmente a pescare un pesce. La gioia si diffonde nel gruppo mentre Rosanna annuncia con entusiasmo di preparare un risotto con il pescato del giorno. Ma il colpo di scena arriva con l'arrivo di un misterioso messaggio inviato dallo spirito dell'isola, che nomina Valentina e Rosanna per una missione speciale, raggiungere la cima della montagna. Lì, le due donne trovano un totem e una sorpresa, una pizza. Ma c'è un twist, solo sei fortunati potranno gustarla. Le scelte sono fatte e la pizza viene assegnata a Stoppa, Aras, Arthur, Alvina, Matilde e Samuel. Ma la gioia di Alvina viene rapidamente ridimensionata da Rosanna, che le ricorda di moderare la sua esuberanza per rispetto dei compagni che non hanno potuto assaggiare quella prelibatezza. La decisione di Rosanna di dare da mangiare a chi non aveva partecipato alla prova, pur se contestata da alcuni, ha mostrato una vera solidarietà tra i naufraghi. Tuttavia, la scelta di includere Samuel tra i fortunati ha sollevato polemiche, soprattutto considerando la sua recente abbondanza durante una prova precedente. Il pubblico, sempre pronto a commentare, ha espresso una serie di opinioni contrastanti su questa mossa. Dimostrando quanto sia coinvolgente la dinamica tra i concorrenti dell'Isola dei famosi puntoamici, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e contenuti. Cliccate su Iscriviti e segui adesso per non perdere nulla di interessante da noi. Grazie per il vostro supporto.